Ancora una volta ciao ragazzi benvenuti su Don't Starve Si lo so non sembra Don't Starve in effetti non lo è Si tratta di una mod di Don't Starve fatta apposta per Halloween Si chiama The Screecher E a quanto pare parecchio ispirata a Slenderman Quindi quello che dovremmo aspettarci è una figura brutta 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 Che ci segue alle spalle se ci giriamo la guardiamo siamo fottuti Iniziamo immediatamente alle... Ho deciso di registrare questo video con la fesca In modo che voi possiate godervi le mie facce spaventate Oddio Iniziamo bene c'è una bella... Un bel suono incoraggiante che ti dice proprio Vai avanti tranquillo non c'è niente da temere Oddio Questo era peggio Questo era meno Meno incoraggiante Meno Ok Beh La grafica è decisamente diversa Da Don't Starve Immagino che sia comunque preso dal motore grafico di Don't Starve Però Ho trovato una torcia Devo cliccare col destro per accenderla Cosa c'è? Batteria credo E qua? Un pranzo No una nota Non posso aspettare qui più a lungo di così Devo cercare di chiamare l'elicottero Ho lasciato una torcia Per te Sara Sara deve essere la nostra fidanzata Amore Noi sei andata Dove cazzo? Cioè io dove dovrei andare? Non si vede Ah posso accendere però Accendi i fuochi da campo per conservare la batteria Sì ma va Aspetta qua non c'è un cazzo Quando è che verrà la creatura a mangiarmi? Perché Ho paura a spegnere la torcia Non vorrei farlo Signore Oh signora Oh un'altra strada Probabilmente devo andare di qua Andiamo Andiamo all'avventura Madonna E non ti spegnere C'ho il 76% di batteria Non ci provare Aspetta Oh 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 Ho trovato del loot Del loot Cosa c'è qua? Nulla Buono nulla E qua? Una Una mappa Figo Tab per aprirla Ah Utile Non ha uno zaino Nulla E qui? Mondezza Che cosa c'è dentro? Nulla Beh beh Buono Ottimo Allora qua dobbiamo Abbiamo due strade Possiamo Andare anche qua In questa Non ti spegnere No Uh uh Loot 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 Vediamo Esaminiamo Esaminiamo Sono sicuro che ci sarà qualcosa di brutto Di qui a breve Non lo guardare Sì esattamente Oh Che è stato? Comunque se ci dice Non lo guardare Immagino che sia La stessa questione Di Slenderman Cioè se tu lo guardi Ti massacra Però se non lo guardi In teoria Dovrebbe lasciarti stare La situazione sta diventando Sempre più ansiogena Cioè Non mi sento affatto tranquillo Devo andare a sinistra E la batteria sta al 58% Ma se finisco la batteria Che succede? Oh un tizio Sei Sei Sara? Sei Sara? Signori Oh Allontana la luce da me Ma perché è scappata nelle tenebre Signori Gennaio 9 L'elicottero ci ha lasciato qui Questo posto è bellissimo E la guida turistica Sembra molto simpatica E' così pacifico Qui intorno Nessuno Vicino Per miglia Secondo me qualcuno c'è E' un tizio brutto brutto Che si diverte a far prendere paura Oh Della roba Della roba Mondezza Che pa... Dammi una nota I vestiti di qualcuno Ho sentito una voce brutta Non mi sento per niente tranquillo Sicuro di me Ehm Aiuto Guida turistica Qua... Qua c'è dovrebbe essere Ho visto Eh Del loot Vai 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 Dobbiamo trovare Cazzo è stato Che cazzo è stato Ma La se io mi giro tipo alle spalle Non ti spegnere Inizio ad avere un po' di paura Inizio Ad avere un pochino di paura Sento dei suoni Alle mie spalle Oh Cioè in teoria In teoria Il bastardo dovrebbe arrivare Quando noi abbiamo Un tos di pagine Slender Non ci ho mai giocato tantissimo Però all'inizio Non ti dà tanta noia Oh Aspetta Non spegnere C'è una luce però Possiamo Chi è che fa stidersi Oh c'è un tizio Aspetta Prima il loot Prima il loot Un'altra nota Ehm Qualcosa Ha vagato per il nostro campo La notte scorsa Le cose diventano strane Non ho visto La coppia brasiliana Da giorni Fa così freddo Bill sta cercando Di aggiustare il generatore Che cazzo è Bill E questa roba cos'è Batterie Uh finalmente Signore Mi dica Ah Oddio Che cazzo di scherzo è Porca puttana Che cazzo Cioè Ma che Cioè è un morto questo qua Ma porca puttana Che paura Ma vaffanculo Sono degli scherzi Del cazzo questi Chi l'ha pensato È un coglione Perché sono degli scherzi Del cazzo Non è neanche dire Ti faccio spaventare Alla buona maniera Tipo Tipo Resident Evil No Una faccia che ti si butta In faccia Ma che cazzo Di scherzo È stupido È uno scherzo stupido Non mi piace Vaffanculo Comunque Non mi lascio scoraggiare Da questo scherzo stupido E quindi procedo Procedo Perché io sono Coraggioso Oh Questo è un disegno Della creatura Immagino Ah era una nota Bellina Nulla qui Bene Oddio Non ti spegnere C'ho il 69% Però aspetta un attimo Qua c'è una doppia via Ciò significa Che Ho sentito del rumore Ho detto Ciò significa che Anche dall'altra parte Magari Ci sta del loot E noi in teoria Dovremmo recuperarlo Perché la batteria È molto Importante C'è qualcuno Qualcuno Qualcosa Signore Oh Di là c'è il fuoco Che abbiamo acceso Prima Non c'è niente Però Devo Devo continuare Perché non voglio Lasciarmi indietro Della roba Devo Devo esplorare Bene tutto Ok Non c'è Eh Lo sapevo Che c'era qualcosa Bastardo Loot Nascosto Segreto Dammi qua Dammi 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 Nulla Qua Fulminare Qua Batterie Oh Ora mi sento decisamente Più tranquillo Ora so che morirò Alla luce Dove dove dovevo andare Dove cazzo A nord Cioè ho fatto il giro tondo Praticamente Però ho trovato Delle batterie Quindi è buono Quando La mia batteria È intorno al 90% Sono tranquillo E sereno Se scende sotto il 50% Mi sento male Perché già Fa paura Con la luce Senza la luce È peggio Ho sentito una goccia Ora non so se Nella vita reale O nel gioco Oh roba Roba Una giacca Posso rubarmela Ah no È un rubinetto Perché l'hai aperto E il giacchietto Invece Cosa c'è nel giacchietto Un'altra nota 14 gennaio Bill è andato a cercare La copia brasiliana Non è ancora tornato Mi sto Sto diventando Veramente spaventato C'è qualcosa Là fuori Nel bosco Dobbiamo andarcene Devo trovare la guida Oddio Ehm Oh Altro loot Altro loot Dammi tutto Vestiti Batterie Su Batterie 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 Baffanculo Allora Dobbiamo continuare Andare a nord Quindi di qua Controllo se qui Nel buio C'è qualche Struttura Eh Ah no Cos'è quello È un cartello Niente Qua c'è una doppia via Una biforcazione Cacchio Dove andiamo A destra o a sinistra Ragazzi Andiamo a destra Qua non possiamo andare ovun Vedo della luce Ma che sto tornando indietro Sto torna Sto tornando indietro Vuoi vedere che sto tornando indietro Sono un ritardato Sono Sono un Beota Dove cazzo Devo andare in qua Mi sono Ma vabbè Non prestiamo attenzione ai miei errori stupidi Questa è la direzione giusta Andiamo Quindi Ah qui c'era il rubinetto Ok Mi devo essere incasinato un po' Quando ho raccolto le ultime cose Ma vabbè State tranquilli ragazzi Non c'è da preoccuparsi Abbiamo ancora il 67% di batteria Quindi va tutto bene Ora qua c'è una doppia strada Possiamo andare a sinistra Oppure a destra Io andrei a sinistra Perché mi sembra che a destra sia Più ricca di obiettivi Quindi prima ci togliamo di mezzo Questo lato qua Così ci assicuriamo di non lasciare indietro niente Spero che ci sia una batteria Perché inizio a essere preoccupato 60% Non è 50% Però insomma Non è neanche tanto serena la situazione Ok Ok Qua c'è un sacco di loot Quindi sicuramente c'è una batteria Niente Qualcosa Niente Nemmeno qui Non facciamo scherzi Ma è strano Ancora la creatura Non si è fatta vedere però Non che io la stia chiamando Uh stivali Posso correre più veloce adesso No non è vero Niente Solo C'era solo spazzatura Mi sa Quindi devo tornare indietro Ok La batteria sta al 50% Sono decisamente Ok è scesa sotto il 50% Sono ufficialmente in panico Decisamente ufficialmente in panico Se mi finisce la luce Io come cazzo ne esco Cioè non ne esco Sono fottuto Se mi finisce la luce Stiamo seguendo delle H Quindi in teoria Stiamo andando verso O un ospedale O un elico Oddio Sangue Tanto Sangue Batterie 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 Oh oh Caccia quelli che lo fissano Si è Slender L'ho capito Oddio Oh 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 La tua Oh no La creatura Non guarda Non guarda Non guarda Non guarda Ma io voglio vedere Ah Ok no 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 Oddio Oddio Eh Batterie 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 Dove cazzo dovevo andare Ho perso completamente la strada Di qua Di qua Mamma mia Come è stata brutta ragazzi Come Ho preso paura Ma Dite che ora sta 10 Dietro di me il bastardo Cioè io ho paura Non mi giro Oh No 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 Uh che paura Aspetta però Tranquilli tranquilli Ma E se c'era del loot Ragazzi E se c'era del loot E se E se me lo trovo di nuovo Davanti Oddio Sto diventando paranoico E se ce l'ho Di Ah Oddio Eh Eh Oddio Aiuto Ho paura Ho paura Ho paura Guardare da qualsiasi E se cammino Guardando per terra Potrebbe essere Una tecnica No 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 Perché poi Magari me lo trovo Di botto Di fronte Preciso Spiacicato In faccia E muoio Aspetta Qua c'è Potrebbe essere Un'altra Nota Magari Oh no Oh no Oh no Una nota Una nota Ti prego Oddio Immondezza Ma non si può correre Tipo Oh ma qui Qui c'è dell'altro loot Uno zaino Una Batteria Eh Ho paura Credo Aspetta Ok calmi Calmi Dobbiamo andare A destra E poi Continuare Quindi destra E continuare Se me lo trovo davanti Se me lo trovo davanti Ehm Ehm Che cazzo faccio Se me lo trovo davanti Se me lo trovo davanti Ehm Alt f4 Ok Se me lo trovo davanti Alt f4 Alt f4 Ok Dai 88% di batteria Qua c'è del sangue Ah Fa culo Perché l'ho giocato Sta sta merda E' un gioco di merda Porca puttana Dove devo andare Oh c'è un cadavere Un ciccione sgozzato No Non fare scherzi Sai che mi ti lancia addosso Pure tu come quello di prima Madonna come se l'ha mangiato E' un co Un cadavere Oh no E allora dove vado adesso Di qua o di là Oddio Andiamo di qua Dobbiamo completare la mappa In fondo Oh no C'è un altro cadavere C'è di nuovo la creatura Mi sa Altro cadavere Oh no Eh Ah oddio Ehm Ok Ok Torno indietro Grazie della Visita Non c'era bisogno Di tutti disturbassi Però comunque Vivo che l'hai fatto Ti offro i miei Più sinceri Ringraziamenti E me ne vado via Cos'è questa roba Sassi Oh no Ancora Sono molto bravo A girarmi dall'altra parte Oh Questa è una nota 8 di 9 ragazzi 9 di 9 Ho vinto Oh Ho trovato un altro cadavere Mi sa che non ho vinto Vabbè però posso continuare di qua Magari Magari si arriva verso la fine Magari E' stato tutto un sogno Oh E' finita la strada Oh no Quanto ho di base 66% Sto andando bene Di là c'è il coso dell'elicottero Vai Vai verso la salvezza Vai verso la salvezza Dov'è Girare più a sinistra Dell'altro loot Ma chi se ne fotte del loot A sto punto Direte voi No Perché bisogna raggiungere Il 100% Magari c'è una decima Cristo Dio Mi ha girato la faccia Io stavo guardando di qua Come faccio adesso Devo passare io Ok Me la sto cavando Egregiamente Egregiamente Madonna Oh sono arrivato all'H L'elicottero La salvezza Ho vinto Ho finito il gioco Dov'è la musica di vittoria Tipo Happy Wheels Papara E ho altre batterie Anche Un utensile Un utensile Landing light Ok dobbiamo accendere queste Come Accendila no Non l'hai accesa È un idiota Come si fa? Devo accenderle tutte Tipo Ma io ho premuto Landing light Eh Perché Perché non l'hai accesa? Eh Credo ci sia qualcosa Che non va Cioè Dovrei tipo trovare Un posto dove si accendono Queste luci? Non ho capito Devo premere qualche tasto Once Lui dice che Una volta che queste luci Sono accese L'elicottero potrà atterrare Questo mi sembra molto Ah ecco Forse è qua Qua Questa geggio qua Le serve per accenderle Forse Radio Lo accende Pensavo tu fossi morto Bill Non sono Bill Torneremo a prenderti Accendi Accendi le luci Dal generatore Dov'è il generatore? Dove cazzo è il generatore? Dove? Ah eccolo Non c'era prima però Eh Eh Sono passato io di qua Vai 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 Oh Eh Non si sta Non si sta Si è acceso Vai Vai ho vinto Venitemi a soccorrere Soccorrere per favore Soccorrere Beh Oh mio Dio Ah Eh Dio Quanti cazzo sono Oh Dio Era pieno di figli Di puttana Madonna Avete visto Pieno Così Una maniera Una maniera E adesso Oddio erano tanti Mio Dio Che paura Ragazzi Però Però ho preso tutte le note Non sono mai riuscito Su Slenderman Sono stato fortissimo Grazie Comunque vi auguro una buona giornata Se la giornata di oggi dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Guardate quello domani Così potrò augurare di nuovo una buona giornata E buon Halloween ovviamente Quindi Alla prossima ragazzi Alla prossima